Gentili telespettatori, buona giornata. È proprio di qualche ora fa la figuraccia della Lucarelli con Salvini, Meloni e anche con la fidanzata, ma adesso, non contenta di aver fatto quella figuraccia, torna a criticare il leader della Lega Matteo Salvini, dedicandogli un post sul suo profilo, puntando il dito contro di lui e contro l'uso che il politico Salvini ha fatto della mascherina con cui si è asciugato il sudore dal viso durante una tappa del suo tour elettorale in Calabria. Quindi ha utilizzato la mascherina come una sorta di fazzoletto asciugamano. E' così, la Lucarelli che vive di queste cose, vive nel criticare gli altri su questo, ecco, principalmente. Infatti in queste ore il video è diventato abbastanza diffuso in internet, che raffigura il capo della Lega mentre è sul palco di Siderno, paesino in provincia di Reggio Calabria. Sta facendo un tour elettorale sul palco, ha cominciato a sentire molto caldo e infatti ha cominciato a sudare abbastanza, immaginatevi l'umidità e il caldo che c'è a fine giugno in Calabria. Così sprovvisto di un fazzoletto e di una salviezza ha deciso di togliersi la mascherina ed usarla per asciugarsi il viso. Il gesto del leader della Lega sul palco insieme al presidente protempore della regione Nino Spirli ha però fatto storcere il naso a molti, in primis alla giornalista del Fatto Quotidiano che ha subito voluto fare notare la cosa al suo pubblico, proprio dicendo su Twitter, posta il video, dicendo Matteo Salvini inturra Siderno in Calabria e il corretto utilizzo della mascherina. Matteo Salvini è finito al centro di diverse polemiche a causa di un gesto che non è piaciuto a molti in tanti l'hanno criticato, bell'esempio, però è un fatto insignificante che però diventa rilevante in quanto Salvini è una persona in vista, forse la più in vista in Italia, la più attenzionata da chiunque. Ci sono cellulari e telecamere, foto in ogni secondo della vita pubblica di Matteo Salvini da quando esce di casa, quando torna. E tutto viene registrato, tutto viene criticato, qualsiasi cosa fa, dove va in spiaggia, cosa legge in spia, qualunque, qualunque cosa. E ovviamente anche questo gesto viene utilizzato dai detrattori contro di lui. Probabilmente non ci ha neanche pensato su Salvini col caldo che faceva fatto così con la mascherina, probabilmente l'avrebbe fatto chiunque, ecco. Ma il filmato fa velocemente il giro del web. E proprio lei è tra le prime, la Lucarelli, a commentare, perché lei aspetta proprio queste cose qua per gasarsi, per esaltarsi. Beh, centinaia di commenti, alcuni sono d'accordo con la giornalista, ma altri prendono le parti di Matteo Salvini. Intanto volevo raccontarvi di altre notizie, ma questa era, diciamo, la notizia principale. Ad esempio abbiamo un altro critico verso Matteo Salvini ed è un democratico. Un democratico che però arriva da oltreoceano. Lui è l'ex governatore del Vermont e dice, parlando del suo paese, i repubblicani hanno smesso di credere nella democrazia. Mi ricordano Salvini in Italia, a cui semplicemente non importa nulla della democrazia. Ecco, queste sono parole senza nessun senso. Perché? Naturalmente questo signore dei dem di là viene invitato dai dem italiani e ovviamente non conoscendo quasi nulla della politica italiana, ma solo dei titoli di giornale magari fatti all'estero, a volte senza fondamento, e dice che Salvini gli ricorda i repubblicani che hanno smesso di credere nella democrazia, perché semplicemente a Salvini non importa nulla della democrazia. Vogliono soltanto il potere e se ne infischiano della Costituzione. Dice, io ignoro qualsiasi cosa i repubblicani dicano. Purtroppo, aggiunge, non abbiamo più un partito di opposizione che sostenga il nostro paese. E qui si vede il dem di un altro paese che ragiona come i nostri democratici, quelli che si freggiano del titolo, cioè se lo danno da soli, di democratico, e poi di democratico, insomma, c'è ben poco. Perché il democratico, prima di tutto, è quella persona che ascolta gli altri. Il democratico non è intollerante o intransigente. No, 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 non parlare perché quello che dico io è giusto e basta. Il democratico è aperto al confronto, ma qui in Italia i nostri democratici e questi qua dei altri paesi non sono propriamente pronti al confronto perché hanno questa priorità, credono di essere superiori, hanno questa presunzione di superiorità, mi mancava il termine, presunzione di superiorità. Pertanto io ho ragione e tu hai torto, a prescindere, perché io ho sempre ragione e in quanto ho sempre ragione, se tu la pensi come me, anche tu hai ragione, se no hai sempre torto. Infatti questo signore, questo ex governatore, dice io i repubblicani li ignoro, neanche li ascolto. Ecco, ignorare tutto quello che è diverso da quello che tu pensi bisognerebbe ascoltare, come tanti di voi che sono su questo canale per ascoltare una campana diversa. per sentire cosa dicono dall'altra parte, se veramente sono tutte queste cose così campate per aria o c'è del vero, o parzialmente del vero. Pertanto molti che sono iscritti a questo canale sono qui, ascoltano per vedere che si dice dall'altra parte, perché ascoltare solo una campana, ascoltare solo una visione sul programma preferito, di sinistra, di politica sulla RAI o su Mediaset o sulla Sette, spesso ti fa vedere le cose in un modo che non sono. A questo punto è buono ascoltare anche gli altri cosa dicono. Quella è un atteggiamento democratico, di apertura a chi la pensa diversamente. Invece questi democratici che dicono io e gli altri li ignoro, neanche li ascolto. E poi si inventano che Salvini è contro la Costituzione e vi fa capire dove sono davvero i democratici, quelli veri. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra poco per un altro video. Arrivederci e grazie. Grazie.